Ciao bambini, sono tornata in compagnia di Peppa e di Susy questa volta, non c'è Rebecca, che fine ha fatto Rebecca? Ciao a tutti bambini, ciao! Eh, Rebecca aveva da fare, allora ho invitato Susy, hai fatto bene Peppa? Come stai Susy, tutto bene? Sì sì, tutto bene, tutto bene! Che cosa prepari oggi? Dunque, oggi pensavo di preparare... Non lo so, ditemi voi intanto ragazze, volete più qualcosa di dolce o qualcosa di salato? Un piatto di pasta Susy, vorremmo un piatto di pasta! Un piatto di pasta, va bene, spaghetti? Sì, allora spaghetti, spaghetti con... non lo so, ci rifletto, adesso vedo che cos'ho e mi preparo un piatto di spaghetti buonissimo, ci potete contare! E vai, non vedo l'ora! Allora, mettetevi pure di qua che io inizio a cucinare! Sì, va bene! Oh, è caduta la panchetta! Quando è pronto vi avviso, eh! Sì, grazie! Allora, queste due ragazze mi hanno chiesto gli spaghetti, e allora facciamo gli spaghetti! Prendiamo un piatto! Prendiamo la plastilina bianca E prendiamo questa macchinetta qua Che è sempre di un playset di Play Doh Prendo il bianco, diciamo questa quantità più o meno E lo mettiamo dentro la nostra macchinetta Così! Poi, aspettate che prima vi cambio l'inquadratura, se no non vedete bene Ecco, così è meglio, eh! Dicevo, abbiamo messo la plastilina dentro E adesso andiamo a schiacciare Facciamo degli spaghetti lunghi, lunghi, lunghi! Adesso taglio Ma secondo me loro hanno proprio tanta fame Quindi ne devo fare ancora Prendiamo altra plastilina bianca Schiacciamo Schiaccio così Poi dopo gli sistemo nel piatto Gli do proprio la forma che hanno gli spaghetti Allora Che piattone che vi sto facendo, ragazze! Ecco qua Gli spaghetti ci sono Adesso dobbiamo preparare un sughetto Veramente buono da accompagnare a questi spaghetti Vediamo un po' nei miei stampini che cosa ho Allora Qui abbiamo I funghetti Il formaggio Sicuramente ci mettiamo delle belle fette di formaggio Proviamo salame formaggio Non so cosa verrà fuori Voglio provare però Prendo il rosso Per il salame E prendo anche un pochino di bianco Non tanto Perché il salame ha i cicciolini, no? Bianchi Allora 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 Intanto ne metto qualcuno qua Così E andiamo a metterlo nello stampino Vediamo come viene Oh ma magari il peppo si offende che ci metto il salame E' fatto col maiale Non diciamole niente Manteniamo il segreto Oh Ecco qua una fettona di salame Metto qua su come là Non glielo diciamo eh Che è fatto col maialino Facciamole un'altra Sempre con la stessa tecnica Facciamo una pallina Schiacciamo un po' Mettiamo dei pezzettini bianchi sopra Qua e là Come capita Più grandi Più piccoli Mi importa Ecco E mettiamo nello stampo E schiacciamo E togliamo Ecco qua Un'altra fettona di salame Adesso facciamo Il formaggio Delle fette di gruviera Formaggio con i bruchi Un po' di giallo Anche troppo l'ho preso Lo mettiamo qua nello stampino Mi aiuto con il taglierino Ed ecco qua La nostra fettina di formaggio Pronta La metto qua Ancora ancora formaggio Ancora ancora Poi da mangiare Non hanno solo questi Perché c'è anche la crostata Che abbiamo fatto In un'altra puntata Quindi proprio Un super pranzo Oggi per loro Guarda Sono tornate da scuola Sono affamate Dopo devono fare i compiti Ho bisogno di energia Altra fettina di formaggio La metto qui Ora vediamo Che cosa Che cosa altro possiamo fare Io vedo anche La rondellina di cipolla Quasi 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 la faccio Con il marroncino Oh spero che piaccia E' a loro Un'altra rondella di cipolla Io direi che il nostro piatto E' pronto Non so se loro ci vogliono Qualcos'altro Ragazzi ci volete Qualcos'altro Sopra questi spaghetti Vi ho messo Vi ho messo Cipolla Formaggio E un'altra cosa Che è un ingrediente segreto E mettici un po' di broccoli 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 Benissimo Non chiedevo di meglio Mettiamo anche dei broccoli E allora prendiamo il verde E facciamo dei bei broccoli Brava Peppa Così mangiate anche le verdure Bravissima Ecco qua un broccoletto Lo mettiamo qua Dove lo mettiamo? Qui Mettiamone anche un altro Che bel piatto Che delizia Che delizia Che profumi Ecco qua Un altro broccoletto pronto E lo mettiamo da quest'altra parte Ok Adesso direi che E' veramente pieno di cose Questo piatto di spaghetti Abbiamo preparato Il formaggio Il salame Ma non ditelo Peppa E poi la cipolla I broccoli Con i tantissimi spaghetti Ragazze E' pronto da mangiare Venite Venite Eccoci Eccoci Guardate un po' Oh Perbacco Che piattone Che cos'è questa cosa qui? Ehm Tonno Oh mi piace il tonno Meno male Bene Allora spero che vi piaccia Proprio questo piatto di spaghetti Ci ho messo tutto Il mio amore Si vede Ha un aspetto delizioso Allora ragazze Buon appetito Grazie Salutiamo i bambini Uh si 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 Ciao bambini Ciao a tutti Ciao 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 Mi saluto anch'io bambini Lascio Peppa e Susi Mangiare il loro piatto di spaghetti Ciao Ci vediamo alla prossima puntata Ciao 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 Ciao